continua a viaggiare con noi iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video perché ogni viaggio è sempre un'esplorazione una scoperta e un sogno Grazie a tutti 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 è spettacolare lo potete vedere anzi veniteci perché secondo me le riprese non rendono l'idea vero Lady? è tutto verde e profumato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti